Michael Waller, è un piacere riaverla ad American Thought Leaders. È un piacere tornare qui. È passato molto tempo. Prima di parlare di Big Intel, cosa ne pensa del fatto che Tucker Carlson sia andato a Mosca per intervistare Vladimir Putin? Ogni giornalista dovrebbe incontrare un leader straniero e ottenere da lui qualsiasi informazione o disinformazione possibile. Purché uno sappia che si tratta di una montatura orchestrata dall'altra parte. Esattamente il mio pensiero. Putin dirà quello che dirà. Si può star certi che abbia incaricato i suoi migliori propagandisti di prepararlo per molto tempo. Cosa pensa di chi dice che attacker Carlson non dovrebbe essere permesso di rientrare nel paese o che gli ucraini l'hanno messo in una lista nera? Il modo migliore per gli ucraini di ottenere il sostegno degli indecisi è quello di minacciare di morte Tucker Carlson. Complimenti. Ma in base a quale follia si vorrebbe usare la censura o la violenza per impedire a un giornalista di intervistare un leader mondiale? Qualsiasi giornalista dovrebbe voler intervistare un leader mondiale. Con le dovute cautele, come lei ha detto. Dovrebbe essere normale. Certo, chi non vorrebbe intervistare Xi Jinping? Qualsiasi giornalista internazionale vorrebbe intervistarlo sapendo che è una messa in scena. Ci parli del suo background? Il mio background è piuttosto eclettico. Ho iniziato come grande fautore dei nostri servizi di intelligence quali strumenti fondamentali di difesa durante la guerra fredda. L'FBI si occupava principalmente di controspionaggio contro le spie e gli agenti sovietici. La CIA era lo strumento principale per il contenimento del comunismo. Così almeno avrebbe dovuto essere. La sua missione era una guerra segreta a livello submilitare, evitando il conflitto armato e poi di informare il presidente con le migliori informazioni possibili, sia per fonte che per verifica. Questo immaginavo io. Ma ho visto qualcosa di molto diverso entrando come studente universitario. Continuo tuttora ad analizzare la situazione nel contesto del sistema. Ma sono molto allarmato. Qualsiasi istituzione avrà sempre i propri problemi e sfide. L'FBI e la CIA hanno raggiunto il punto di non ritorno, in cui hanno smesso di servire gli interessi americani. È un'affermazione sorprendente. Molti si chiedono se questa affermazione sia vera. Ovviamente, non può essere vera in assoluto. Giusto, è una generalizzazione. Ma se si dovesse rispondere solo con un sì o un no, bianco o nero, allora non agiscono nell'interesse degli americani se considerano se stesse come uno Stato nello Stato. Se smettono di credere nei veri principi fondanti dell'America e non sono più al servizio di tutti noi, la situazione è capovolta. Certo, combattono le spie straniere e sono bravissimi a combattere il traffico di bambini all'interno del paese e il crimine organizzato. L'FBI ha fatto molto. Ci ha protetto dagli attacchi del terrorismo internazionale. La CIA è stata la migliore al mondo in questo, non c'è dubbio. Ma non proteggono più l'America se sono pieni di persone che nemmeno credono più nell'America, nel modo in cui è stata fondata, nei principi su cui si basa e vedono metà del paese come un nemico. Lei è entrato nel sistema dopo l'università. Ci parli della sua carriera. Io non sono mai stato nel governo, ma intorno al governo. All'inizio, quando ero studente di giornalismo, sono stato contattato per far parte della rete finanziata privatamente dal direttore della CIA William Casey per sostenere le politiche del presidente Reagan contro il blocco sovietico. Ma non sapevo in cosa mi stessi cacciando. Avrei dovuto capirlo che se ti viene detto di andare in una chiesa e di sederti in fondo e poi il direttore della CIA si avvicina e ti dice un nome e fa ripetere il nome a qualcuno e poi cerca uno dei suoi amici che ti aveva dato dei soldi per andare in viaggio con un'insurrezione sostenuta dalla CIA contro un regime comunista, mi c'è voluto molto tempo, a 21 anni, per mettere insieme tutto questo. Fu proprio Bill Casey a darmi il mio criptonimo nella cattedrale di San Matteo. Trent'anni dopo, ho scoperto che l'aveva fatto per non dover testimoniare in Parlamento cosa era successo in quella chiesa. Vuoi spiegare meglio? All'inizio volevo entrare nella CIA per combattere la guerra di Reagan al comunismo. Il mio professore Jack Zia, che è Angelo Codevilla, che era famoso e che conoscevo come membro della Commissione Intelligence del Senato, mi dissero «Non arruolarti, tu la odierai e lei ti odierà. Non è più orientata alla propria missione». Caspita, che anno era? Il 1983. E allora entrai nella rete di Casey che era finanziata privatamente. Si scoprì che la finanziava di tasca sua per non dover dire nulla al Parlamento. Erano soldi suoi e quindi erano affari suoi. Noi eravamo solo dei ragazzini e non sapevamo a cosa andavamo incontro. Il mio lavoro finì per essere quello di raccogliere informazioni in America centrale sul sostegno del blocco sovietico al governo comunista in Nicaragua e alla guerriglia comunista in altre aree. E ha smesso alla fine del mandato di Casey? No, prima. Durante la guerra ho conosciuto una ragazza salvadoregna e mi sono sposato. Poi sono partito e ho fatto altro, ma facevo avanti e indietro. Lavoravo ancora con i Contras, a titolo privato, perché credevo nella loro causa, e anche con l'esercito salvadoregno, sempre a titolo privato. Poi sono passato al giornalismo. I conservatori dicono che i media mainstream non sono altro che un portavoce dei servizi. Lei cosa ne pensa? C'è una simbiosi tra certi elementi dell'intelligence americana e la stampa mainstream e alcuni giornalisti investigativi in gran parte di sinistra. È così dagli anni 50. Hanno costruito le carriere di alcuni giornalisti del Washington Post o delle tre grandi reti che avevano un tempo, ora con la CNN e alcuni siti. Hanno fatto trapelare illegalmente informazioni riservate. diventano dipendenti dal funzionario o dall'analista o dall'agente dell'intelligence. Quindi non fanno storie. Non diranno mai nulla contro di te perché sei la loro fonte, sei prezioso. Fanno carriera grazie a te. Fanno libri. I migliori fanno anche un sacco di soldi. A volte ci fanno dei film. C'è una classe di giornalisti molto benestanti che dipendono completamente dai servizi. Quanto è diffuso questo fenomeno? Quando leggi fonti dell'intelligence o che Tizio ha ricevuto documenti dalla CIA o che funzionari anonimi dell'intelligence dicono, significa che dei funzionari anonimi stanno passando informazioni a quel giornalista o testata. C'è un rapporto di favore. Sì, ogni buon giornalista cura le proprie fonti, ma non tutti i bravi giornalisti ricevono sempre fughe di notizie. Lei ha detto che questi rapporti sono iniziati negli anni 50 e conosce l'operazione Mockingbird. La tesi del suo libro è che sono passati dall'essere eroi della guerra fredda a essere dei servizi deviati. Questo è iniziato negli anni 50? La CIA è stata fondata negli anni 50 all'inizio della guerra fredda. Da un lato è importante che i giornalisti sappiano certe cose, ma è anche importante che i funzionari dell'intelligence rispettino la legge e non facciano trapelare informazioni riservate ai giornalisti favorendone alcuni. Negli anni 50 Allen Dulles era a capo della CIA e suo fratello John Foster Dulles era ministro degli esteri ed erano molto vicini al presidente Eisenhower. Avvenivano cose come il famoso discorso segreto di Nikita Khrushchev al congresso del partito sovietico per denunciare i crimini di Stalin e ripulirsi da colpe per i crimini che aveva commesso anche lui. Però ammetteva che il criminale non era solo Stalin, ma l'intera dirigenza comunista e il movimento comunista internazionale. Per questo si trattava di un discorso segreto. Perché se il movimento comunista e i diversi partiti e i fedeli agenti e sostenitori sovietici in tutto il mondo l'avessero saputo, sarebbero stati stroncati nel morale. Quando gli Stati Uniti misero le mani su questo discorso, doveva essere reso pubblico. Era stato un gran colpo di intelligence. Ma come divulgarlo? Lo fai trapelare dalla CIA? No, in quel caso il ministro degli esteri americano lo diffuse ufficialmente. Venne tradotto in varie lingue attraverso soggetti privati alleati degli Stati Uniti nella guerra fredda. Venne distribuito alle comunità che non parlavano inglese e all'estero. Questo è un buon modo di usare l'intelligence. Senza manipolare né fare favoritismi tra giornalisti, ma facendo circolare le informazioni. Sapevano come farlo, ma sapevano anche come fare attività tipo l'operazione Mockingbird, che consisteva nel passare certe informazioni ai giornali. Con dei fini specifici. Quando c'è una strategia politica è ancora peggio perché influenza il modo in cui gli americani intendono la politica. Ci sono funzionari dei servizi coperti da immunità che manipolano l'opinione pubblica americana e quindi manipolano la politica e le elezioni americane. Spieghiamo meglio cos'è l'operazione Mockingbird. Alcuni sostengono che sia ancora in corso. Prima di tutto, non sappiamo cosa sia in corso. Non sappiamo che tipo di operazioni stiano continuando o se ce ne siano di nuove. Mockingbird era un'operazione finalizzata a usare la stampa per influenzare l'opinione pubblica e manovrare i giornalisti. Era molto lineare, ma non erano solo singoli funzionari della CIA che facevano trappelare informazioni a certi giornalisti. Era una vera e propria operazione gestita e coordinata dall'alto. Serviva a diffondere specifiche notizie per manipolare la società? In realtà, il fine era a combattere la guerra fredda contro i sovietici, però la CIA non supportava dei veri movimenti anticomunisti e non ha creato forze anticomuniste. Ha creato forze non comuniste. La sinistra democratica e persino quella quasi democratica o non democratica che non era totalitaria. Questo per tenerle lontane dai partiti e dalle organizzazioni comuniste controllate dai sovietici e portarle nell'alveo della politica. In qualsiasi paese si trovassero. In Europa c'erano i veri anticomunisti. Ma chi erano? Non lo sappiamo. Erano tutti democristiani moderati o laburisti anticomunisti. Non erano di destra, ma consideravano i comunisti come rivali nel loro obiettivo di controllo del movimento operaio. Ha costruito la sinistra internazionale, mentre i sovietici costruivano la sinistra estrema internazionale. Questo ha influenzato pesantemente la politica mondiale e il modo in cui il mondo è oggi. E anche il globalismo, perché erano entrambi movimenti globali. In Polonia c'era un'ala di Solidarnosc che era l'unica ad avere il mandato esplicito di essere anticomunista e abbattere il governo comunista. Pochi oggi sanno che Solidarnosc era un sindacato che lottava per i diritti dei lavoratori. quanti conoscono quest'ala di Solidarnosc? Non se ne parla molto. Io me ne ero dimenticato. Può approfondire questo appoggio della CIA non alle forze anticomuniste ma solo a quelle non comuniste? All'inizio della Seconda Guerra Mondiale non avevamo un servizio di intelligence. La guerra era già iniziata ma ancora non ci riguardava e noi non avevamo un controspionaggio. Poi gli inglesi ci dissero che ce ne serviva uno e ci aiutarono a crearlo. Sembrava un buon affare. Il presidente Roosevelt nominò Bill Donovan per istituire quello che divenne l'Office of Strategic Services l'OSS che durante la guerra raccoglieva e analizzava informazioni per il presidente ma conduceva anche operazioni segrete dietro le linee nemiche dove vennero reclutati giovani come Bill Casey uno che aveva inventato degli strumenti fiscali per aiutare le persone ad aggirare la confisca dei beni del New Deal di Roosevelt. Avevamo bisogno di gente come lui capace di distruggere un sistema con il minimo sforzo. Molti erano fieri anticomunisti e antinazisti. Durante la guerra il vero obiettivo di Bill Donovan era sconfiggere l'asse con l'OSS. Non vedeva nulla al di là di questo. Ma J. Edgar Hoover il direttore dell'FBI che Donovan non sopportava ed era reciproco diceva non basta Stalin vuole rimodellare il mondo dopo la sconfitta dei nazisti dobbiamo stare attenti perché ci manipolerà. E guarda un po' Stalin stava inondando gli Stati Uniti dei suoi agenti molti dei quali entrarono nell'OSS. Servivano dei madrelingua delle diverse lingue dietro le linee naziste come trovarli? Molti di questi erano agenti dei partiti comunisti di quei paesi espatriati negli Stati Uniti alcuni solo per rifugiarsi altri per infiltrarsi come agenti e così si è sviluppata la scuola di Francoforte negli Stati Uniti. Quando negli anni 30 esponenti della sinistra europea i comunisti europei entravano negli Stati Uniti e poi entravano nei nostri servizi come consulenti o agenti si ricordavano da dove erano venuti e i propri obiettivi politici. C'erano gli stalinisti e poi c'erano gli eurosocialisti che volevano un'Europa socialista e in tutto questo non venivano messi al primo posto gli interessi americani. Loro volevano solo sconfiggere Hitler per ottenere i propri obiettivi. Nei nostri servizi segreti c'erano sezioni di sinistra filo-comuniste e di sinistra anti-comuniste. Quando l'OSS venne sciolto molti entrarono nel ministero degli esteri e impostarono le politiche con cui conviviamo oggi. Lei usa un termine tratto da un libro di Diana West che ha scoperto cose sorprendenti su persone che si sono dichiarate comuniste fin da subito. Premetto una cosa è dire queste persone di sinistra o questi agenti sovietici hanno fatto certe cose negli anni 30 e quindi oggi la situazione è così. Ma non c'è un rapporto causa ed effetto. Scrivendo Big Intel ho analizzato cosa è successo sotto Obama. Com'è possibile che il centro sia crollato nell'FBI e nella CIA e che abbia prevalso la sinistra UOC? Chi ne è responsabile? Quando e perché è successo? Quali documenti dimostrano che è successo? Da dove è partito? Andando a ritroso si trova il filo rosso di Diana West questa catena di custodia intellettuale che risale da persona a persona senza soluzione di continuità a un incontro del 1922 a Mosca presso l'istituto Marx-Engels con i leader del Comintern l'internazionale comunista un'organizzazione internazionale allora appena creata dai bolshevichi per controllare tutti i socialisti radicali e i partiti comunisti del mondo e renderli fedeli alla rivoluzione bolshevica per poi replicare il bolshevismo in tutto il mondo si trattava di un sistema di comando e controllo strutturato a livello centrale si riunivano all'istituto Marx-Engels soprattutto con i loro agenti europei e con Felix Zerzynski il fondatore della cieca che poi è diventato il KGB per capire come fare la rivoluzione di tipo bolshevico in tutto il mondo e concordavano sul fatto che i lavoratori non si sarebbero mai rivoltati usando la violenza come Marx voleva e come era accaduto in Russia perché erano troppo ben pagati e avevano qualche speranza di miglioramento serviva un modo diverso un bolshevico ungherese di nome Georgi Lukacs che era stato ministro della cultura nel regime bolshevico ungherese che aveva preso il potere poco prima della presa di potere dei sovietici e che non durò a lungo fu lo stratega del terrore rosso del suo paese radunare le persone e assassinarle in base alle opinioni politiche e culturali distruggere le famiglie e le chiese e qualsiasi senso di tradizione morale sessualizzare i bambini e separarli dai genitori distruggere il nucleo familiare questa era la sua strategia suona familiare suona familiare è morto nel 1971 ed è stato un teorico molto attivo e una figura venerata a sinistra in quei decenni faceva parte del filo rosso ma era una sua idea e fu il primo a metterla in pratica Karl Marx l'aveva concepita nel 1843 cinque anni prima di scrivere il manifesto comunista quando non era ancora un economista pazzo che non capiva niente di economia e poi diventato famoso per il manifesto e Das Capital ma cinque anni prima era un guerriero ideologico scriveva che bisognava distruggere l'orgoglio per il proprio paese e che obbedire alle leggi giuste alla chiesa alla famiglia al patrimonio culturale alla storia e ai genitori era tutta oppressione per lui tutto era oppressivo la nazione i governanti la vostra morale la religione i vostri genitori i fratelli sono oppressivi tutti il suo fine era distruggere la società ma non ha fatto presa si è attaccato ai problemi della rivoluzione industriale e al terribile trattamento subito dai lavoratori al tempo per sfruttare i conflitti economici come motore del cambiamento poi ci riprovarono dopo la rivoluzione bolshevica in questo incontro del 1922 per istituire una scuola in Germania per tutti gli intellettuali la gente chic e i ragazzini con fondi fiduciari aggiungendovi una bella dose di sesso freudiano droghe e qualsiasi tipo di intossicazione tutto per essere cool e giocare a fare i rivoluzionari distruggendo la società questo avveniva mentre la Germania si stava sfasciando dopo la sua resa incondizionata nella prima guerra mondiale non aveva una lunga storia da stato unitario quindi c'erano molte fazioni in lotta tra loro i marxisti culturali sostenuti dai sovietici pensarono di combattere gli italeriani per ultimi dopo tutti gli altri prendendo il controllo della Germania attaccando il centro solo che Hitler fu più veloce di loro e quindi fuggirono molti arrivarono negli Stati Uniti con l'aiuto di un agente dei servizi segreti sovietici e negoziò con la Columbia University la possibilità di aprire lì una sezione della scuola di Francoforte l'università aveva una scuola di insegnamento per i docenti che si sparpagliarono in tutta l'America e lavorarono con un certo John Dewey capo della National Education Association si recò in Unione Sovietica e poi scrisse una serie di sei articoli sul New Republic in elogio al sistema educativo di Stalin progettò anche un nuovo sistema educativo per cambiare il modo in cui i bambini americani imparano e vedono il mondo Yuri Bezmenov sostiene che il KGB faceva in gran parte attività sovversive non raccolta di informazioni su Bezmenov ho scritto un intero capitolo ho esaminato quelle interviste e ne ho trascritte molte in modo che siano stampate e che YouTube non le possa cancellare da un giorno all'altro è una figura molto saggia del suo tempo sono interviste di 40 anni fa chi era Bezmenov? non era nel KGB era un propagandista sovietico sotto copertura giornalistica con sede in India ma conosceva molto bene l'intero mondo anglofono poi disertò negli Stati Uniti e si trasferì in Canada e ci ha dato un'immensa conoscenza di come erano addestrati i propagandisti sovietici ha detto tutto sulla filosofia e dottrina alla base del loro addestramento e il loro obiettivo era di distruggere le nostre società pezzo per pezzo di creare confusione di demoralizzare di farci perdere la fiducia in noi stessi in tutti e in tutto quello che per noi è buono di rovinarci dal di dentro farci crollare dall'interno per sconfiggerci Sun Tzu dice sconfiggere il nemico senza combatterlo e Bezmenov ce l'ha spiegato nel 1983-84 molti non erano pronti per queste rivelazioni all'epoca lo capirono gli anticomunisti schierati col presidente Reagan tutti gli altri lo rifiutarono la nostra più grande minaccia sovversiva attualmente proviene dal regime cinese lei non ne parla molto nel suo libro come mai? ci vuole un libro a parte o una vita di lavoro a parte per quello mentre il mio obiettivo era concentrarmi su come hanno fatto FBI e CIA a diventare woke ho indagato sulla politica di Obama e dei suoi consiglieri il direttore della CIA sotto Obama aveva votato per un agente sovietico come presidente degli Stati Uniti e lui lo sapeva che quello era un agente sovietico parlo di Gasol candidato per il partito comunista americano e tre anni dopo è stato arruolato dalla CIA non penso proprio che a un certo punto abbia avuto un'epifania e abbia deciso di combattere i comunisti anche nelle sue memorie in cui lo ammette non c'è alcun pentimento la definisce solo una bravata da ragazzi non ha nascosto le sue inclinazioni ideologiche quando è stato arruolato è scioccante il colloquio per un lavoro in cui tratterà i segreti di Stato soprattutto per i servizi è come fare una confessione ammetti subito tutti i tuoi sbagli perché poi li scoprono comunque se menti o sei ambiguo è impossibile passare quindi ammetti tutto e basta poi valuteranno loro infatti qualche anno prima vota per i sovietici e ora vuole diventare agente della CIA non è un disertore del partito comunista che vuol passare dalla nostra parte è uno che vuole un comunista a governare l'America e fa carriera poi Obama lo nomina consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca e poi lo nomina a capo della CIA poi c'era il generale Clapper un altro di estrema sinistra l'uniforme e il frasario da eroe di guerra non devono ingannare questo è sempre stato un noto estremista per tutta la sua carriera e io so diverse cose su di lui da persone dei servizi che conoscevo negli anni 90 sono cose che ho sentito in prima persona e poi ne ho raccolte altre e Clapper proteggeva i peggiori elementi della CIA ha persino protetto il gruppo di analiste donne dell'America Latina che all'epoca erano aperte sostenitrici di Che Guevara una aveva la foto di Che Guevara sulla scrivania e non come trofeo ma come un'immagine sacra una delle persone che Clapper proteggeva era Anna Belen Montes una spia cubana non dico che lui sapesse che quella era una spia dico che proteggeva degli estremisti di sinistra assunti come analisti dell'intelligence Clapper aveva dato dei pass per il pentagono al capo dell'intelligence militare sovietica e russa qui a Washington e questo poteva andare in giro da solo per il pentagono perché mai fare una cosa del genere ma lui poteva farlo ecco questa è la gente che fa carriera nel sistema e in qualche modo si riuniscono tutte sotto Barack Obama ai vertici della comunità dell'intelligence poi scendono nel sistema per far salire coloro che sono arrivati dal basso ed inseriscono nei quadri intermedi e superiori ma non possono farlo con la meritocrazia è qui che entrano in gioco la diversità l'equità e l'inclusione per tirarli su con questi criteri ebbene ora ci sono persone sveglie che dirigono l'intero centro nevralgico della CIA questo è il modo in cui funzionano i servizi c'è una sorta di linguaggio in codice se usi quel linguaggio nella candidatura quelli come te ti riconoscono e sanno che stai dalla loro parte succede spesso e certi in realtà non lo sono ma conoscono il linguaggio in codice adatto a far carriera finché riesci ad identificarti in quello che non sei vieni promosso perché la tua ideologia è giusta e la verità viene distrutta se uno può dire di essere di un genere o un sesso o una razza che in realtà non è gli altri sono costretti a crederci cioè non possono solo essere d'accordo devono crederci davvero a quel punto è proprio come Winston in 1984 2 più 2 fa 5 non ti basta dirlo devi crederci l'FBI ha organizzato un programma di formazione nel 2021 di cui ho ricevuto una presentazione di 56 pagine c'è un intero capitolo dedicato all'importanza del genere perché ora il direttore dell'FBI Ray lo definisce un principio fondamentale la CIA lo stesso questi sono diventati principi operativi fondamentali di recente l'FBI ha persino pubblicato su X un post che dice che il gender è un principio fondamentale dell'FBI al pari della Costituzione degli Stati Uniti ma il punto è questo quando credi che un uomo non sia un uomo o che una donna non sia una donna e che sia di qualsiasi genere essi dicano di essere e devi crederci e il tuo futuro professionale dipende da questo che danni fa questo alla tua onesta valutazione delle prove come investigatore che ne è della raccolta e della valutazione dell'intelligence e delle valutazioni da passare ai politici se i fatti non sono più fatti è tutto sottomesso a un'ideologia chi fa queste cose lo facevano i sovietici lo fa il regime cinese qui abbiamo dei servizi di intelligence per cui i fatti ormai non contano più niente guidati da progetti sociali politici e culturali che originano direttamente dal marxismo culturale originato dall'incontro del 1922 con Felix e Zerginski a Mosca i parlamenti repubblicani hanno finanziato questa roba per cui non si tratta di destra o sinistra loro si adeguano a quello che fa l'FBI o la CIA ma qui è importante avere la persona migliore per il lavoro non mi interessa da dove viene o che fa nella vita privata purché non sia una minaccia per la sicurezza nazionale e sia la persona migliore per quel lavoro questo serve è necessario che l'FBI sia addestrata a lavorare in determinati gruppi e sottogruppi culturali per fare bene il lavoro di indagine e poi portare in tribunale un'accusa solida devi lavorare in quelle comunità per capirle questo va bene ma qui stanno trasformando i nostri agenti dell'FBI e della CIA in agenti impiegati nel cambiamento culturale questo non è legale e non è lo scopo dei servizi ma è quello che stanno facendo quale parte di questi servizi la pensa così minima nell'FBI circa l'1,6% è quello che ora l'FBI definisce LGBTQAI plus l'etichetta continua a cambiare secondo i dati dell'FBI è l'1,6% l'FBI non è così arcobaleno come finge di essere e non tutto quell'1,6% vuole imporre per forza questa roba è solo una frazione che vuole farlo solo un piccolo gruppo di militanti che poi però finiscono per essere il centro nevralgico e gli esecutori politici dell'FBI secondo il corso di formazione dell'FBI del 2021 se sbagli il genere di una persona per tre volte hai uno stigma a livello professionale e perdi la promozione quasi tutti i sistemi delle società occidentali sembrano diventati così un gruppo molto ristretto di persone si impone a tutti gli altri sono pochi ma hanno molto potere e tutti gli altri si adattano alla situazione tranne poche eccezioni pensate alla questione dal lato del marxismo culturale avete una mentalità una struttura intellettuale improntata all'ideologia del marxismo culturale e alla teoria critica non serve nemmeno conoscere l'ideologia se si è addestrati a pensare in un certo modo ti dicono non puoi dire questo è razzismo se dici questo sei misogino no non va bene e a quel punto devi compensare per non essere più chiamato così l'obiettivo del marxismo culturale è quello di farci perdere la fiducia in tutte le nostre istituzioni non solo nell'FBI nella CIA o nel governo ora è anche nella medicina ormai non puoi più fidarti né del tuo medico né delle medicine va bene essere scettici e preoccupati ma quando si arriva al punto in cui la mancanza di fiducia è totale dove andiamo a finire? Infatti lei ha appena esposto la gravità delle politiche istituite dal direttore dell'FBI Christopher Ray però Ray ha testimoniato in Parlamento sull'infiltrazione del Partito Comunista Cinese nei sistemi americani con mezzi informatici creati non solo per raccogliere informazioni e per scopi militari ma anche per danneggiare i cittadini comuni e sulla base delle nostre informazioni questo è vero però moltissimi americani non ci credono a causa di altre azioni dell'FBI che si sono rivelate false è un problema enorme quello che lei ha esposto qui ma c'è anche un ruolo importante svolto dall'agenzia come facciamo a trovare una quadra qui potremmo cadere nella trappola dei marxisti culturali se sappiamo che la trappola c'è possiamo evitarla ma se neghiamo che la trappola ci sia o non la vediamo proprio allora è la fine è stato un bene sentire il direttore dell'FBI dare questo allarme sulla Cina comunista e ha detto proprio Partito Comunista Cinese non ricordo l'abbia mai detto prima di solito si parla solo di governo cinese questo significa che l'FBI ha davvero scoperto qualcosa e sta dedicando risorse a questo problema lo abbiamo visto negli ultimi anni ma pensate che nell'FBI ci sono nove direttori diversità nove alti dirigenti che non lavorano contro il Partito Comunista Cinese e che si stanno alienando la maggior parte del personale dell'FBI per conformarsi a questa folla ideologia e che promuovono il personale solo con questo criterio da un lato l'FBI è la nostra prima linea di difesa interna contro lo spionaggio e la sovversione del Partito Comunista Cinese ma dall'altro lato sta sprecando le sue risorse per la propria rivoluzione culturale interna al punto che non possiamo fidarci nemmeno quando fa la cosa giusta o come minimo ti viene il dubbio ed è un danno tremendo poi c'è un aspetto di distrazione a forza di concentrarsi su questa ideologia si può finire per non vedere le vere minacce alla sicurezza nazionale quelli che sarebbero i migliori agenti di controspionaggio contro il PCC pensate che sia davvero possibile andarli a reclutare all'ombra della bandiera arcobaleno o in ambienti trans guardate il reclutamento militare basta vedere il tipo di annunci che le forze armate hanno pubblicato per convincere gli elementi più inutili della società ad arruolarsi non sono certo queste le persone che servono davvero i veri guerrieri così li stiamo allontanando e infatti abbiamo questa tremenda crisi di reclutamento stanno basando il reclutamento sull'ideologia dei ossia diversità equità inclusione al solo scopo di rendere l'FBI più simile all'America e quelli che in numero sproporzionato vanno a morire per questo paese sono proprio quei maschi bianchi che secondo il sistema di EI sono meno importanti di un'idea non conta la provenienza demografica non trovano spazio nelle forze armate né nei servizi segreti perché fondamentalmente non sono i benvenuti nel suo libro lei dà delle idee su come affrontare questo enorme problema diventa davvero scoraggiante se si guarda solo ai problemi e i problemi sono davvero gravi ma se si ha un cancro al terzo stadio c'è speranza forse anche se si ha un cancro al quarto stadio c'è ancora speranza quindi cosa possiamo fare? la prima cosa da dire è che l'FBI è ormai politicizzata in modo irreparabile in che modo commette abusi sui comuni cittadini americani per motivi politici gli occhi e le orecchie dell'FBI sul territorio a livello locale sono la polizia statale quella locale e gli sceriffi di contea gli sceriffi di contea hanno l'autorità esclusiva di decidere se e come i federali possano operare nella loro contea gli sceriffi sono ufficiali di polizia eletti questo è un anno di elezioni questo è un modo che ogni cittadino ha per aiutare il proprio sceriffo a evitare che i federali entrino nella contea per commettere abusi di potere e anche per vigilare che il proprio sceriffo faccia davvero questo si deve mandare il messaggio agli sceriffi e ai candidati che hanno il sostegno della gente e che è meglio che facciano il loro lavoro nel difendere i cittadini che li hanno eletti spieghi meglio il ruolo dello sceriffo io mi occupo più della parte federale ma ho due colleghi al Center for Security Policy che si occupano di questo aspetto a livello statale lavorano con gli sceriffi di tutto il paese e con i parlamenti statali di tutto il paese ogni cittadino ha voce in capitolo quando vota per lo sceriffo di solito non prestiamo attenzione a chi si candida a sceriffo ci limitiamo a controllare l'affiliazione al partito e invece no bisogna parlarci per dargli manforte oppure per criticarli se non stanno lavorando bene molti dipartimenti dello sceriffo e polizie locali e statali vengono comprati dal governo federale con tutte quelle belle apparecchiature elettroniche i veicoli blindati le armi automatiche e l'addestramento speciale tutto molto bello e divertente ma se devi proteggere la tua popolazione da un governo centrale che abusa del proprio potere come fai? Questo è un tema importante nell'elezione di uno sceriffo ed è una delle soluzioni all'abuso di potere federale In che modo uno sceriffo può prendere posizione contro l'FBI? Può dire voi non potete operare nella mia contea se io ritengo che stiate agendo in modo illegale sono io il capo delle forze dell'ordine di questa contea e voi state violando la costituzione o una legge e anche se fosse così e legalmente potete entrare io non vi aiuto non sono obbligato a farlo Non so in quanti sappiano questa cosa Nemmeno io lo sapevo finché i miei colleghi non me l'hanno fatto notare ma molti ceriffi lo sanno e sono molto contenti quando altre persone lo dicono altri ceriffi non lo sanno e sono in soggezione con Washington ne hanno paura o magari vogliono quel bel equipaggiamento militare del governo ma se ti fai comprare poi diventi l'ufficio locale dell'FBI e quando l'FBI ti chiede di essere i suoi occhi e le sue orecchie non puoi più dire no Molte delle sue soluzioni sono a livello locale o statale È quello di cui si occupano i miei colleghi del Center for Security Policy fanno molte iniziative legislative per aiutare gli stati ad affrontare questo problema Gli stati le contee le città e i piccoli centri hanno ancora molti poteri solo che non se ne rendono conto e nemmeno gli elettori se ne rendono conto Questo è un aspetto Poi serve un presidente che riconosca il problema ma che sia anche in grado di creare una vera e propria squadra basata su fiducia e coesione e che abbia un vero e proprio piano che abbia ordini esecutivi già pronti prima del giorno dell'insediamento e un calendario per l'attuazione di tali ordini esecutivi Gli ordini esecutivi sono decreti presidenziali ad ampio spettro Ogni presidente li fa Non c'è alcun problema Il problema è che quando il presidente Trump è entrato in carica non ha annullato gli ordini esecutivi di Obama Ora ha imparato la lezione Ma deve avere i propri ordini esecutivi per abrogare quelli sbagliati attualmente in vigore Può farlo unilateralmente per poi attuare il proprio programma attraverso gli ordini esecutivi Per legge le agenzie federali devono rispettarli non appena diventano effettivi cioè il giorno stesso della loro firma Ma Trump non ha cercato di convertirli poi in leggi anche quando entrambe le Camere del Parlamento erano dalla sua parte Per cui Biden è arrivato e gli è bastato abrogare gli ordini esecutivi perché non erano stati confermati da leggi È arrivato il primo giorno con i suoi e ha firmato ordini esecutivi che hanno trasformato radicalmente il governo Reagan aveva fatto questo molto bene quando era entrato in carica nel 1981 E anche Bill Clinton che piaccia o meno E anche Obama E anche Biden l'ha fatto con il team di Obama che a mio avviso usa Biden come un fantoccio Negli ultimi anni abbiamo visto come le agenzie non seguano necessariamente le richieste del presidente Possono perdere tempo per quattro anni Possono tirare le cose in lungo Possono fare quello che gli pare Possono mentire e fare quello che vogliono a un presidente che non sa come gestire una burocrazia e che non ha una squadra per gestirla Non basta mettere il tuo uomo a direttore della CIA per un anno per poi metterlo a capo degli esteri e lasciare che la CIA si gestisca da sola Ed è successo esattamente questo Quando è arrivato il presidente Trump ha nominato direttore della CIA Mike Pompeo Un grande parlamentare Cosa ha fatto la CIA? Gli ha fatto fare il giro del mondo per visitare tutte le stazioni della CIA tenendolo lontano dall'Anglie il più possibile Poi gli hanno detto fidati di Gina Haspel che ha fatto molta esperienza con gli inglesi e lasciale gestire l'agenzia al posto tuo Lui non aveva nessun vice di cui potersi fidare e lei se lo era lavorato ben bene quindi lui l'ha raccomandata quando è stato nominato ministro degli esteri Se la CIA è coinvolta nell'interferenza elettorale nel nostro paese non puoi lasciare che la CIA si gestisca da sola C'era una miriade di cose in ballo nell'amministrazione Trump e non c'era un gruppo di lavoro coerente a lavorarci seriamente Non avevano un piano d'azione perché il presidente vedeva la gestione dell'America come quella di un'azienda ma non funziona così e la CIA ha continuato ad autogestirsi Tutti i messaggi woke usciti dalla CIA nei primi mesi dell'amministrazione Biden sono un prodotto del direttore della CIA Gina Haspel quando lavorava sotto Trump e lo ha fatto anche dopo con altri incarichi nei servizi Lo stesso vale per l'FBI Non basta solo licenziare Comey poi il suo vice McCabe e poi Peter Zorc il capo del controspionaggio che ha preso la propaganda del comitato elettorale della Clinton collaborando con agenti stranieri e con un russo sospettato di lavorare ancora per il vecchio KGB per mettere in piedi la storia della collusione di Trump con la Russia non basta sostituire il capo anche con la persona migliore del mondo bisogna andare alla radice del marcio come con un malato di cancro bisogna amputare le parti irrecuperabili e curare le parti curabili magari facendo qualche trapianto per non perdere il paziente condivido la frustrazione di chi chiede di chiudere l'FBI ma è come dire che siccome le nostre forze armate hanno dei comandanti e un reclutamento pessimi dobbiamo eliminare l'esercito non avrebbe alcun senso la CIA nel senso di un servizio segreto efficiente ci serve lo stesso l'FBI vanno cambiate le strutture il comando il controllo va cambiata la condotta burocratica spezziamole in modo che non possano essere usate contro il governo costituzionale ci sono molte opinioni in merito e questo è solo uno spunto per iniziare un dibattito nazionale su come fare ma si potrebbe prendere la parte dell'FBI che combatte il crimine la parte di polizia e trasferirla agli US Marshall eliminando alcune funzioni inutili e quindi eliminando le posizioni di certi dipendenti federali elimini le posizioni perché gli individui non li puoi licenziare gli altri li accorpi agli US Marshall che è la più antica agenzia federale di pubblica sicurezza è stata creata da George Washington che ha un'ottima reputazione e che non è ancora molto woke l'accademia dell'FBI va accorpata al Marshall Service e la divisione sicurezza nazionale dell'FBI che è una delle unità più politicizzate va trasformata in un servizio separato che faccia unicamente contro spionaggio poi altre funzioni della divisione per la sicurezza nazionale come l'antiterrorismo andrebbero trasferite ad altri uffici federali che già se ne occupano non è la soluzione perfetta ma così almeno non rimarrebbe nulla del buro se non le risorse umane e altre funzioni ormai inutili e a quel punto elimini quelle posizioni quei dipendenti federali sono fuori non hanno più autorizzazioni speciali e non sono più un problema quanto alla CIA innanzitutto è stata molto gonfiata un servizio segreto che spi il cambiamento climatico non serve a niente ed è quello che stiamo facendo adesso letteralmente spiano il clima è un enorme spreco a che serve un servizio segreto per il gender è pazzesco tutto lo spreco che c'è nella CIA ci spieghi meglio è impossibile è oltre ogni logica questi credono che occuparsi del gender sia un ruolo fondamentale della CIA dicono che è di primaria importanza se lo dicono loro ma ci sono molte cose inutili dei circa 30.000 dipendenti della CIA ci saranno solo 1.500 agenti effettivi sotto copertura in giro per il mondo non sappiamo di preciso ma è una frazione molto piccola e gli altri che fanno molti di loro svolgono attività di supporto raccolta e analisi di intelligence la tecnologia serve e tutto serve ma è molto costoso ed ipertrofico vanno abolite molte funzioni non necessarie non serve che la CIA si occupi di intelligence open source perché qualsiasi giornalista o laureato può farlo le operazioni segrete vanno tenute snelle ed efficienti ci sono molti agenti clandestini in gamba che dal lato loro fanno un lavoro fantastico quanto alla raccolta e all'analisi dell'intelligence la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarebbe opportuno fare un servizio a sé stante ma ripulito dalle follie woke come reagisce la gente ai suoi suggerimenti quanto al ruolo dello sceriffo molti non ci hanno mai pensato come me finché i miei colleghi non me ne hanno parlato per quanto riguarda lo smantellamento dell'FBI i più giovani gli ex agenti e gli informatori pensano che sia una grande idea si spingerebbero persino più in là di quanto farei io alcuni dei più anziani ancora in servizio o in pensione dicono che è troppo complicato da fare per problemi tecnologici ma sono anche legati al nome FBI è come se l'FBI fosse diventata la Bud Light delle forze dell'ordine se vi piace quel marchio potete continuare a seguirlo ma la maggior parte delle persone non lo seguirebbe in queste circostanze non abbiamo bisogno dell'FBI se ha fatto il suo corso ma abbiamo bisogno delle sue funzioni e per quanto riguarda la CIA per lo più detestano l'idea non vogliono discutere la questione woke perché è troppo palese anche molti uomini della CIA orientati a sinistra ma comunque fedeli alla propria missione dicono che è una follia che li sta danneggiando molto e allora denunciatelo e liberatevene non hanno voluto essere citati nel mio libro non ho potuto nemmeno fare accenni a certe persone con cui ho parlato se non vogliono farsi avanti allora stanno condannando la loro stessa ex agenzia dovrebbe fare la fine dell'OSS che diventò un peso una volta compiuta la missione ma andrà fatto in modo più ordinato rispetto all'OSS che venne completamente abolito lasciandoci senza niente va divisa e accorpata lei descrive cambiamenti enormi è difficile immaginare come tutto questo possa funzionare ha qualche considerazione finale? abbiamo bisogno di tutte queste funzioni ma non di stati all'interno dello Stato non abbiamo bisogno di servizi che si considerano al di sopra del popolo con dei capi che ingannano il Parlamento e mentono al Parlamento comprese le commissioni di vigilanza sui servizi non è possibile che un direttore dell'FBI non risponda a una domanda con un sì o un no quando la risposta non violerebbe alcun segreto necessario devono rispondere il senatore Cruz ha chiesto l'FBI aveva risorse o agenti coinvolti nella pianificazione o esecuzione dei crimini il 6 gennaio al Campidoglio e il dirigente FBI non ha voluto rispondere letteralmente la domanda era l'FBI ha pianificato e commesso crimini contro il Parlamento e l'FBI non ha voluto rispondere è una domanda fatta due anni fa e non hanno ancora risposto c'è da chiedersi perché ti aspetti che l'FBI sia il più disponibile possibile ma qui abbiamo un direttore dell'FBI che per tornare a casa vola con un jet dall'aeroporto Reagan di Alexandria in Virginia a Manassas in Virginia un volo di 6 minuti si è fatto il suo piccolo regno e si atteggia a re questo è un pericolo reale e questo è il momento giusto è la nostra ultima grande occasione per fare qualcosa perché visto come gli arrivisti sono cresciuti di grado nel prossimo mandato presidenziale l'intera FBI sarà piena di gentaglia a meno che non si faccia qualcosa quest'anno Michael Waller è stato un piacere piacere mio vorrei essere più ottimista ma per esserlo i nostri cittadini devono essere adeguatamente informati e attivi grazie a tutti per esservi uniti a me e a Michael Waller in questa puntata di American Tot Leaders e a a Autore dei sovrapposti